Più dei conduttori, più delle canzoni in gara, più dei outfit delle vallette. Da due anni il tema caldo del Festival di Sanremo è la presenza o la fragorosa assenza di Beppe Vessicchio sul palco. Il maestro, conosciuto dal grande pubblico anche per la sua partecipazione come professore ad amici, negli anni ha firmato diverse vittorie sul palco dell'Ariston, dirigendo l'orchestra per i Avion Travel, per Valerio Scanu, per Alexia e per Roberto Vecchioni. Poi, l'anno scorso, mentre il web veniva inondato di meme e video a tema, Vessicchio ha spiegato il reale motivo della sua esclusione, non solo da Sanremo perché sia presente e necessario che un artista che collabori con lui arrivi alla fase finale del Festival, ma anche da tutti i programmi relativi. C'era un contenzioso in atto. L'interrogativo quest'anno torna di attualità. A Sanremo 2018, Beppe Vessicchio ci sarà? È stata Cristina Parodi durante Domenica Inn a chiederlo al maestro, ospite in collegamento. Non lo so, ha risposto Vessicchio senza sbilanciarsi. Dipende da chi farà parte del gruppo dei big. Se saranno scelti gli artisti con cui lavoro, allora ci sarò. Posso dire che collaboravo con due giovani che non sono stati scelti. Scoprirò solo con l'annuncio di Baioni se sarò a Sanremo 2018. Per sapere quindi se i fan del maestro verranno accontentati, bisogna attendere il 15 dicembre, quando verranno annunciati in diretta su Rai 1 i big che parteciperanno al Festival 2018. Tutto il web, inutile dirlo, farà il tifo per Vessicchio.